Ciao, sono Giuseppe Frusteri, il presidente dell'OPAN, la prima organizzazione prodotto del Sud Italia. Ringrazio innanzitutto l'Accademia 5T, il presidente Guido Stecchi, per averci dato la possibilità di partecipare alla fiera espositiva di Vinitaly, nello specifico nel salone Sole Agri-Food. Oggi abbiamo portato i nostri prodotti all'interno del salone, facendo anche una degustazione particolare della lonza di suino nero, cucinata dagli chef, con un contorno di limone di Sicilia. Quindi qualcosa di eccezionale, di particolare, molto apprezzato dagli estanti in quel momento. Continueremo la degustazione durante la giornata con i prodotti di spicco di suino nero, quindi gli stagionati. Naturalmente il prodotto di punta eccezionale è il prosciutto di suino nero, che due giorni fa ha ricevuto il primo marchio a fuoco dalla parte del governo regionale, quindi sancendo il marchio collettivo di qualità del nero dei nebrodi, quindi del prosciutto dei nebrodi. Sicuramente è un'occasione eccezionale quella che oggi ci sta dando Verona, la visibilità assoluta eccezionale, in un prodotto, quindi in un parterre di eccellenze che l'Accademia delle 5T raccoglie annualmente e presenta in modo unico al suo modo all'interno di tutti i saloni espositivi.